In vista delle comunali di Termoli il centro-destra si ricompatta, almeno sull'obiettivo da colpire, l'amministrazione di Angelo Sbrocca, qui è stata addossata la colpa della situazione del depuratore del porto. Ci lascia nella melma, ha sentenziato Antonio Di Brino, insieme agli altri esponenti della coalizione che hanno puntato il dito contro la mancata sistemazione della condotta sottomarina dell'impianto, rotta da più di un mese e mezzo. Un problema prima di tutto ambientale, oltre che di cattivi odori che si diffondono in tutta la zona del centro. La stagione balneare alle porte rischiamo di arrivare a giugno nelle stesse condizioni. Un problema di questo tipo va risolto subito a sostenuto invece Francesco Roberti. La minoranza ha presentato un'interrogazione al sindaco che però, secondo Francesco Rinaldi, su questi temi è assente. Così come anche l'assessore all'ambiente Filomena Florio che, ha dichiarato il consigliere, non convoca la commissione competente da sei mesi. Purtroppo siamo all'ennesimo episodio di malfunzionamento del depuratore del porto e di mal governo e amministrazione sbrocca perché problema, li ho sempre detto fin dall'inizio del mandato di questa amministrazione, che c'era un'emergenza che era quella della depurazione. Erano stati creati i presupposti per risolvere tutto entro il giugno 2015, ma anche già dal giugno 2014 con la consegna del depuratore del Sinarca. Si sarebbe alleggerito il depuratore del porto con l'impianto di sollevamento di rio vivo. Si sarebbe risolto completamente il problema e si poteva delocalizzare il depuratore del porto. Un'amministrazione che evidentemente non solo non fa nulla, ma crea danni e in questo caso crea danni all'ambiente, crea danni al turismo, crea danni all'economia di questa città. Alla conferenza a rappresentare Fratelli d'Italia c'era il coordinatore Luciano Paduano e Silvana Cicciola, colei che il partito ha scelto come candidato a sindaco da portare al tavolo del centrodestra. Per Michele Marone della Lega il progetto di riparazione è stato già predisposto dalla Crea, la società che gestisce il servizio e che ha l'obbligo di intervenire, ma il Comune non avrebbe ancora dato il suo ok, accumulando ritardi su ritardi. Ma è possibile che ogni anno in prossimità della stagione balneale ci ritroviamo a dover gestire una situazione di emergenza, ma che siamo matti, ma per cinque anni si è sempre ripetuta la stessa situazione, ma questa amministrazione invece di pensare al tunnel e a opere faroniche perché non ha pensato alla prima emergenza di Termoli che si riflette negativamente sul turismo e sulla balneazione e cioè alla manutenzione del depuratore, alla manutenzione del deodorizzatore.